Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. È stata una grande attrice e donna. Lungo i suoi 67 anni si è fatta valere costruendo attorno a sé una grande carriera di pellicole ed uscite in teatro che l'hanno resa celebre. Un ride russo non le ha lasciato alcuna speranza di risalire, perché la donna è stata mortalmente colpita. Durante il bombardamento di un edificio residenziale a Kiev, una premiata artista ucraina, Oksana Shvets, è stata uccisa, si legge su Facebook in una dichiarazione dello Young Theater. Nella nota si legge ancora. Brillante ricordo per l'attrice di talento. Non c'è perdono per il nemico che è arrivato nella nostra terra. Veterana del palcoscenico e dello schermo da decenni. All'attrice era stato conferito uno dei più alti riconoscimenti artistici nel suo paese, per il suo costante impegno a teatro. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.